Buongiorno, tutti noi ogni giorno sperimentiamo emozioni di diverso tipo, l'allegria, la gioia, la felicità, ma anche la rabbia, la gelosia, l'invidia, il vittimismo. Siamo sempre molto felici di sperimentare emozioni colme di armonia, ma siamo meno felici di sperimentare emozioni disarmoniche. Ma c'è un modo per passare dalla disarmonia all'armonia? Il modo c'è e sono i fiori di Bach. Eduard Bach è stato lo scopritore della floriterapia, rimedi con i quali armonizzare le emozioni che ci fanno star male e che possono essere causa di malattie, di disagi fisici e psichici. I fiori di Bach sono uno strumento utilissimo e dalla portata di tutti. Il corso infatti è utile per i terapeuti come medici, veterinari, farmacisti, erboristi, psicoterapeuti, ma anche per tutte quelle mamme che vogliano prendersi cura dei loro bimbi. Il corso si compone di tre parti, una parte base, una parte specifica per i bambini ed una parte specifica per gli animali. Avrete le dispense, i video e dei test specifici per ogni parte. Io sono Arianna Romano, la vostra docente e tutor e sono a vostra disposizione per tutte le domande sul forum dedicato. Arrivederci, a presto! Grazie a tutti!